esegui ora questa breve potente meditazione per contattare quel luogo di pace che è in te e riempire di positività la tua giornata in modo semplice e piacevole assicurati per la durata di questa pratica di non essere interrotto da nessuno spegni il cellulare e ritirati in un posto il più possibile silenzioso siedi in una posizione confortevole su di una sedia oppure per terra su di un cuscino la cosa più importante è che la tua schiena sia allineata e libera da tensioni per sgombrare la mente per tre volte inspira profondamente dal naso ed espira dalla bocca lasciando andare l'espirazione completamente rilassata in questo modo adesso puoi tornare con facilità ad essere presente al tuo corpo e al tuo respiro scorri e sali con l'attenzione attraverso ogni parte del tuo corpo partendo dai piedi senti i polpacci le ginocchia le cosce i glutei la schiena le spalle le braccia le mani il collo la testa il viso osserva che tornando presente in ascolto del tuo corpo facilmente numerose tensioni immediatamente svaniscono ascolta il tuo corpo senti gli angoli delle labbra che si distendono un poco sorridi al tuo corpo questa attenzione sorridente luminosa ti permette di ricevere il meglio da questa pratica concentrati ora sul tuo respiro ascoltalo sorridi al tuo respiro diventa presente al suo ritmo naturale adesso modifica questo ritmo espira e conta dentro di te 1 2 3 4 inspira 1 2 3 4 seguimi espira 1 2 3 4 inspira 1 2 3 4 espira 1 2 3 4 inspira 1 2 3 4 3 4 spira 1 2 3 4 spira 1 2 3 4 inspira 1, 2, 3, 4, espira 1, 2, 3, 4, inspira 1, 2, 3, 4, espira 1, 2, 3, 4, inspira 1, 2, 3, 4, espira 1, 2, 3, 4, inspira 1, 2, 3, 4, espira 1, 2, 3, 4, inspira 1, 2, 3, 4, espira 1, 2, 3, 4, lascia ora il tuo respiro tornare spontaneo, osservalo respirare in te senza intervenire, mantieni un lieve sorriso che illumina il tuo corpo e la tua mente, nell'intensità della tua presenza immobile e illuminosa, ascolta e fai tue le parole dei saggi, tu non sei una goccia nell'oceano, tu sei l'intero oceano nella goccia. Lascia un commento qua sotto ed iscriviti anche tua passione yoga per diventare insieme a migliaia di altre persone parte di questa meravigliosa comunità. Così facendo riceverai tutte le settimane contenuti gratuiti ed esclusivi per la tua pratica. Ci vediamo presto. Namaste.